Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Zebra. Allora, mancava solamente l'ufficialità per lo scambio e l'operazione Artur Pjanic, l'ufficialità che è arrivata circa due ore fa. Entrambi i club hanno appunto ufficializzato l'acquisto e l'accessione dei rispettivi calciatori e leggiamo i comunicati. Allora, vi leggo un attimo i comunicati del Barcellona, prendo dal sito di Marzio. Cominciamo con il comunicato riguardante il calciatore brasiliano. Allora, Barcellona e Juventus hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Artur Melo. Il club italiano pagherà, attenzione, 72 milioni di euro più 10 di bonus variabili, quindi ci avviciniamo molto alle cifre di cui si era parlato nelle scorse giornate. Il calciatore, ovviamente, rimarrà a Barcellona fino al termine delle competizioni ufficiali della stagione 2019-2020, quindi 72 più 10 di bonus variabili. Bisogna capire quel variabili cosa vuol dire. Sentiamo invece il comunicato, sempre dalla società Blaugrana, su Miralem Pjanic. Allora, FC Barcellona, quindi Football Club Barcellona e Juventus, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Miralem Pjanic. Il costo dell'operazione sarà, attenzione, di 60 milioni di euro più 5 milioni di bonus, quindi anche in questo caso siamo più o meno sulle stesse cifre di cui si parlava appunto nelle scorse giornate. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime quattro stagioni fino alla fine della stagione 2023-2024. E attenzione, attenzione a questo passaggio perché è veramente interessante. Con una clausola di acquisto di 400 milioni di euro, cioè quasi mezzo miliardo di euro. Il giocatore rimarrà con la Juventus, anche come Arthur, per il Barcellona fino alla fine della stagione 2019-2020. Allora ragazzi, chiudiamo un attimo qua. Ok, allora, l'ufficialità quindi è arrivata. I due calciatori hanno già effettuato le visite mediche a Torino. Che dire, sono molto molto sorpreso per quanto riguarda il discorso della clausola di Pjanic. Io vi faccio un discorso generale sul calciatore bosniaco. Dal mio punto di vista, Pjanic molto probabilmente farà discretamente bene a Barcellona. Io vedo che, e lo vedo appropriato appunto, per il gioco in generale per la filosofia del Barcellona appunto. Vedremo come sarà utilizzato. Sono molto curioso di vedere come sarà utilizzato Pjanic. Pjanic probabilmente verrà inserito, comunque prenderà la posizione, sostituirà, darà il cambio a Busquets. Come vi ho sempre spiegato, dal mio punto di vista, Pjanic non è un regista a basso di centrocampo per sua vocazione, diciamo così, per sua natura. Io ho sempre visto in lui delle caratteristiche, delle qualità più offensive. Non so come dire, da un certo punto di vista mi sarebbe piaciuto anche nella Juventus vederlo giocare più offensivo come posizione. Quindi ho come mezzala o addirittura, addirittura mi spingo a dire, quasi come trequartista. Pjanic sappiamo che ha delle qualità innegabilmente, che sono qualità tecniche e qualità di passaggio. Secondo me, avesse giocato un pochino più avanti sarebbe stato meglio probabilmente. Oltretutto, penso che sia un giocatore molto bravo a dettare l'ultimo passaggio, cosa che a noi manca nel nostro centrocampo, quando soprattutto non c'è Ramsey. Quindi comunque vedremo come verrà utilizzato. Nonostante questo mio pensiero, è in dubbio il fatto che Pjanic in questi anni di Juventus si sia specializzato appunto nel ruolo di regista a basso di centrocampo. Quindi penso che verrà utilizzato nel Barcellona proprio in quella posizione. Staremo a vedere. Detto questo, però, sono stato molto sorpreso di vedere la clausola. La clausola, questa clausola è di enorme valore, perché parliamo appunto di quasi mezzo miliardo di euro. Questo probabilmente è un segnale, un segnale che il Barcellona in qualche modo crede nel bosniaco e vuole cercare di tenerselo a sé. Quindi sicuramente c'è una pianificazione, non so come spiegare. Questo colpo da un lato sicuramente ha una valenza per quanto riguarda le plusvalenze, è innegabile. Il valore di entrambi i giocatori dal mio punto di vista è stato assolutamente gonfiato rispetto al loro valore reale. Ma c'era bisogno appunto di fare plusvalenze e l'operazione conveniva sia al Barcellona che alla Juventus. Però l'inserimento di questa clausola mi porta a pensare che ci sia una programmazione, comunque una volontà, e che ci sia stata appunto una volontà importante del Barcellona di portare nel proprio club il calciatore bosniaco. Vedremo appunto come sarà utilizzato Pianice nel Barcellona. Arriva da noi Arthur, un ottimo prospetto, un ragazzo molto giovane, classe 96. Vedremo anche come avrà utilizzato il calciatore brasiliano il prossimo anno con o senza Sarri. Staremo a vedere. Ditemi che cosa ne pensate sia di Arthur ma anche di Pianice. Io a Pianice in ogni caso, nonostante le ultime bruttissime prestazioni, l'ultimo periodo, la Juve assolutamente al di sotto dei suoi standard, tengo a ringraziare. Comunque grazie a Miralem perché ci hai accompagnato in questi anni, nel bene e nel male. Comunque sei stato un pilastro della nostra squadra e anche per merito tuo abbiamo raggiunto dei risultati. Quindi ti ringrazio Miralem. Capisco però anche che era il momento di cambiare e che il suo ciclo alla Juventus era finito. Quindi ditemi nei commenti che cosa ne pensate di Arthur. Ditemi come vedete Pianice a Barcellona, in che posizione secondo voi giocherà, se verrà utilizzato tanto o meno, se giocherà titolare. Non credo, magari si inserirà piano piano, staremo a vedere. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, viva la Juve sempre. Ciao.